Il motivo principale per cui abbiamo scelto AMLAB è l'unicità della proposta. Noi ci siamo soffermati sulle realizzazioni di AMLAB perché rispecchiavano in pieno quello che volevamo dalla nostra farmacia dei sogni. In questa farmacia ci si può muovere fisicamente, possiamo accompagnare i nostri clienti nelle varie aree espositive. Non c'è un ostacolo tra noi e il cliente, è un rapporto molto più intimo e quindi ci dà la possibilità di accogliere a tutto tondo le esigenze del cliente. Una farmacia che è stupenda, mi trovo molto bene, personale, ottimo, vengo molto volentieri ecco. È una farmacia stupenda, bellissima, concepita con nuovi criteri. Il cliente quando entra ha una visione globale di tutto ciò di cui ha bisogno. Abbiamo visto una qualità e un lavoro più vicino alla nostra sensibilità, al nostro modo di vedere e di concepire la farmacia. Non un modello industriale efficiente, ma un modello ritagliato sulla ricerca della particolarità, della bellezza, unita appunto all'efficienza, ma soprattutto su un taglio personale. La farmacia nuova dà delle suggestioni diverse a noi, operatori, ma anche alla clientela che abbiamo già visto essere molto più attratta all'auto apprigionamento rispetto a prima. Si è davvero a contatto con un ambiente confortevole che fa venire voglia di restarci, ecco, di lavorarci. È una farmacia che dà più servizi, soprattutto nel percorso di prevenzione e benessere. Diciamo che riesco di più a creare una relazione con il cliente, soprattutto, e anche a capire le sue necessità. Sicuramente ha migliorato la mia relazione con il cliente, anche il fatto magari di avere tutti i prodotti esposti, il fatto di muovermi nella farmacia, di accompagnare il cliente, diciamo che mi permette di dargli maggiori informazioni. C'è molta più privacy a banco, si sta molto bene, anche perché ognuno appunto ha il suo angolino, si riesce a parlare con più tranquillità, proprio con il cliente, che si vede che anche è un pochettino più a suo agio, ecco. Sicuramente l'ambiente è più stimolante, al di là, aggettivamente, dello spazio, della luce, dell'esposizione. Soprattutto quest'angolo erboristico mi dà la possibilità di entrare in confidenza. Mi sento bene, perché quando si entra in questa farmacia non sembra neanche di entrare in una farmacia, veramente. È molto armoniosa, molto confortevole. La trovo molto accogliente, molto bella, è meraviglioso, guardi.